Adesso sto impostando i manici della borsa. E questa era la borsa che ci veniva insegnata, l'intreccio che ci veniva insegnato con la treccia di giunco sardo. Cioè prima bisognava fare la treccia e poi intrecciare. Sto intrecciando due fili insieme di ordito, uno del manico e uno dell'intreccio. Per cui questo manico, questi due manici, partendo dal fondo, hanno molta resistenza. E se li agganciassi direttamente sopra qui, tenderebbe un po' a spostare il tessuto. I due fili si incrociano fra di loro, quindi è come se fossero ritolti, cioè attorcigliati. Perché acquista più consistenza all'intreccio. Cioè in teoria si rompe, se io intrecciassi solo con un filo, spezzandosi il filo, soddisfarebbe. Invece, in questo modo, l'intreccio è completo ed è lo stesso intreccio che si usa quando si fanno i cestini. Cioè i cestini si intrecciano con due o anche tre fili. E che si bloccano a vicenda. Cioè i cestini si intrecciano con due o anche tre fili.